Lo sviluppo industriale a Hong Kong minaccia i delfini rosa. L'inquinamento e gli ultimi progetti, come l'allargamento dell'aeroporto internazionale e la costruzione di un lungo ponte che collegherà la parte sud con Macao, potrebbero far allontanare definitivamente quei pochi esemplari, circa 60, che sono rimasti finora a popolare queste acque. Il numero di delfini bianchi, conosciuti come rosa, proprio per il colore particolare, da anni sta velocemente diminuendo. Nel 2003 se ne contavano circa 153 esemplari. I lavori dovrebbero coinvolgere 650 ettari, proprio l'area principale in cui vivono i delfini. Le autorità avevano annunciato la creazione di un'area marina protetta per rimediare la perdita del loro habitat naturale, ma nulla al momento è in programma. Crediamo che se questo progetto verrà realizzato, sostiene Samuel Hung, del progetto di ricerca sui cetacei di Hong Kong, probabilmente i delfini si allontaneranno da queste acque. Purtroppo quando parliamo di sviluppo e conservazione, dice Samantha Lee del WWF, vediamo che il governo qui ha deciso di puntare prima sullo sviluppo, poi sulla conservazione. In alcuni villaggi di pescatori, dove i delfini sono considerati quasi come animali domestici, la loro perdita sarebbe un danno enorme. Si viene qui per avvistarli, ma quelli come William, che con la sua barca accompagna i turisti, la prendono con filosofia. Se i delfini si allontanano non possiamo farci niente, dice. Possiamo solo trovare un altro modo per vivere. La gente sa come adottarsi ai cambiamenti.